Musica Salve a tutti amici sono Mr.Delleric e benvenuti qui con me a un'altra puntata di ROM 2 Total War Allora ragazzi come vediamo è morto il nostro comandante, il nostro ammiraglio della nostra piccola flotta che avevamo mandato un pochino in esplorazione che stiamo facendo tornare Però prima di occuparci di questo ragazzi volevo parlarvi di una cosa importante So che alcuni di voi questa cosa l'hanno già sentita perché chi di voi segue un pochino tutte le mie serie già nella puntata che ho caricato precedentemente Andavo dicendo queste cose qui per cui portate pazienza voi che già l'avete sentito queste cose Però per voi invece che seguite soltanto questa serie, quella di ROM 2 Total War Volevo avvertirvi di questo Non spaventatevi se per qualche giorno non vedete episodi di ROM 2 È semplicemente che cerco di incastrare ogni mia serie al meglio delle mie possibilità Cosa vuol dire? Che fondamentalmente vado a caricare su YouTube un video per serie Un giorno carico ROM 2, un altro giorno carico Timberstone, il giorno successivo carico Prison Architect e via così Faccio un po' un giro in modo tale da non deludere nessuno, da accontentare un pochino tutti Perché siete in tanti che mi chiedete continua, fai più veloce, fai questo, fai quell'altro Ma purtroppo ragazzi ho un lavoro e il mio lavoro tra l'altro diventa anche un pochino più impegnativo verso la fine dell'anno Per cui purtroppo faccio il meglio che posso, non me ne vogliate Detto questo voglio anche ricordare un'altra cosa Come ho promesso, visto che abbiamo raggiunto e superato gli 800 iscritti E di questo ragazzi vi ringrazio davvero tantissimo Perché senza il vostro supporto non avrei fatto assolutamente niente Non avrei neanche lontanamente immaginato di raggiungere un risultato di questo tipo Ma come ho promesso, visto che sono un uomo di parola Raggiunti i mille iscritti, visto che mi sembra un numero veramente considerevole E comunque alla portata Ho deciso appunto che mi presenterò, inizierò anche un vlog Quindi farò proprio delle riprese dove parlerò un pochino più di me Allora, detto questo amici, iniziamo immediatamente il nostro gameplay Allora, ho fatto passare il turno dalla volta scorsa E' successo appunto questo, è morto il nostro ammiraglio mezzo matto A dire il vero Adesso dobbiamo decidere se fare un quadrireme d'assalto con i princeps Mmm, succosa Oppure con questa con i triari, con la torre Mmm, fanteria o lanceri fondamentalmente Allora, io dico questo Visto che si tratta della nave ammiraglia Del fatto che sia veloce o altro Mi interessa poco Io guardo un po' le caratteristiche delle due navi Vedo che è molto difesa, ha una grande armatura Però non ha una grande capacità di attacco probabilmente A differenza dei princeps Ma è quello che mi interessa Perché qua l'ammiraglio Deve fondamentalmente soprattutto pensare al morale delle truppe Più che attaccare Per cui che si difenda bene mi va anche a pennello Adesso vediamo il nostro nuovo generale Allora Mmm, più 3 velocità reintegri di tutte le unità Vabbè, insomma Più 1 alla crescita per turno Meno 5 i costi di costruzione Ma solo la provincia e i locali non ce ne frovi un cazzo Allora, questa roba qua invece potrebbe essere già più interessante Perché Consente l'abilità secondo fiato Guider, guerre, guerra Cioè fondamentalmente Ha un meno 2% al tempo di ricarica di tutte le abilità speciali Però un meno 2% non è tantissimo Ed è l'unica cosa negativa che ha Per cui Caro amico mio Tu sei il nostro nuovo ammiraglio Pace negoziata Allora, queste due popolazioni hanno stretto pace Hanno fatto pace Vabbè, bravi ragazzi Puttanaccia la miseriaccia Chi è? Burro! No, burro, cazzo L'hanno ferito Hanno ferito burro, porca puttana Il nostro inutilissimo agente Ma vaffanculo, ma cazzo Vabbè, d'accordo Se lo merita Se lo merita sta un po' in panchina Sta in panchina brutto stronzo No, ma cazzo Oh, ma mi muoiono tutti Anche l'altra mia gente era morta Dai Decimo giugno Brutto Allora Sì, vabbè Ma è l'ammiraglio È l'ammiraglio di primo Sì, sì, vabbè Vabbè Ma qua muoiono in quanti Stanno morendo tutti Tutti se ne state andando Mi lasciate da solo Allora I tuoi collaboratori hanno scovato un agente straniero in incognito Stai ben attento Beh, alla faccia dell'incognito Mi è praticamente sotto al dedè Sotto al sedere Allora Rapporto del furiere Oh, ragazzi Abbiamo la nostra balista Balista o ballista Sono praticamente Io le chiamo in entrambi i modi Ma in realtà è giusto dire effettivamente balista La ballista è un'altra macchina da sedio Molto simile Ma effettivamente leggermente diversa Gli equite sei triari Uh, mamma mia Sta diventando un esercito davvero, davvero succoso Allora Effettivamente mi avete fatto notare una cosa molto interessante Cioè il fatto Che stavo facendo questa organizzazione a corti Ci metterei a tre turni a farla Per poter Come si dice Per poter Modificare i miei astati Farli diventare princeps Allora Siccome la cosa mi interessa E mi garba particolarmente Cambiamo immediatamente Il tipo di tecnologia Che stavamo facendo Perché le ha Tutto sommato gli arieti Le armi da sedio Si, insomma No Chi cacchio Che cacchio Chi sei Chi sei Ma l'ho capito Era già Abbiamo capito che era morto Non c'è problema Non ti preoccupare Stai sereno Allora Come siamo messi qua Allora Io direi che siamo messi Abbastanza bene Nel senso che È vero che qua ci sono tante unità Ma sono tutte Mezze sgangherate Sono più sparpagliate Più che altro In realtà Allora Giusto perché Comunque devo aspettare Un altro turno Ragazzi Io Ordinerei Delle altre truppe E di fanteria Visto che comunque Ne ho tanta Io farei Degli altri triari Che i triari Secondo me Sono eccezionali Per Bloccare Come si può dire Bloccare Gli assalti Dei nemici Anche se Soprattutto ovviamente Se si tratta di cavalleria Ma Comunque in ogni caso Fanno magari meno danno Ma Hanno qualcosa in più di difesa Infatti Sì Hanno più armatura Hanno più morale Sì sì Ci facciamo un'altra unità Di questi Sicuramente Ragazzi Adesso dobbiamo andare pesanti Per cui Andiamo anche di altra balista La cavalleria Nel realtà Nelle attacchi alle città Io non è che la sfrutti Proprio tanto Perché nelle strade cittadine Non è che si muova Proprio agilmente In campo aperto Sì Ma nelle città È abbastanza inutile A quanto Sì A mio avviso Allora Vediamo se riusciamo In qualche modo A fare Piazza pulita Di questi Urca vacca Non ce la farai mai Ok Abbiamo capito Che tu devi fare Esperienza Non con questo Perché è fortissimo Quello lì Per cui Ti facciamo fare Esperienza In altro modo Ti facciamo fare Esperienza Magari ecco Questo pirla Qui Facciamo un bel Assassinio Vediamo se è possibile Mamma mia Ma sei Incompetente Di uno scherzo O sono i miei avversari Che sono Dei car armati Guarda che roba Hai delle percentuali Bassissime Facciamo un sabotaggio Almeno qua c'è qualcosa Di più Distruggi salmeria Abbiamo un esito Negativo Altissimo Però insomma Piuttosto che Non farti far nulla Speriamo che guadagni Comunque punti È un'ottima cosa Ecco Ecco È un'ottima cosa Sì Ma io devo capire questo Perché quando ho Una bassa probabilità Di riuscire nelle cose Mi riescono per davvero E invece quando ho Un'altissima probabilità Ho il 70% Di riuscire A scaccolarmi il naso No Mi Mi infilo un dito Nel cervello E mi ammazzo Mi lobotomizzo Da solo Cioè Perché Vabbè Ho distrutto i rifornimenti Di questi pirla Allora In realtà ragazzi Non è che servisse Particolarmente Questa cosa Perché comunque Sono già Si stanno già decimando Per i cavoli loro Probabilmente per una carestia Diciamo però Che questa cosa Mi è servita Per aumentare di grado La nostra spia E quindi Fare in modo Che diventi Un pochino più Abile Allora Per esempio Ecco Questa è un'ottima cosa Gli darei un più 5% La probabilità di successo Critico In tutte le sue azioni Almeno La rendiamo ulteriormente Più utile Un'altra cosa Effettivamente Che mi avete Consigliato di fare Allora È quella Di provare A Togliere Allora Il mio agente Gli togliamo La sua Abilità speciale E mi avete detto Di provare A farlo Entrare In città Allora Guardate Non è possibile In ogni caso In qualunque modo Io ci provi Vedete Tasto destro Non si può fare L'ho tolta L'abilità D'accordo Forse devo aspettare Un turno Per vedere Però Non mi pare Perché comunque Riuscirei a muoverlo Ma non a farlo Entrare in città Allora Proviamo ad aspettare Proviamo a vedere Il prossimo turno Mi devo ricordare Di farlo Allora Questi ovviamente Adesso non si possono muovere Perché Il prossimo turno Li muoveremo Mi sembra Che siamo messi Abbastanza bene Allora Fatemi vedere Se le città C'è da dover Costruire qualcosa Di interessante Allora Qui abbiamo L'officina Eh ma io voglio Però l'officina Dell'ingegnere bellico Qua mi serve Il discorso a rieta Ecco perché Lo stavo facendo Niente no Qua aspettiamo Qua invece Ci avremmo Un meno due Al cibo Allora Visto che di cibo Adesso ne abbiamo Tanto Ma proprio qui Tra l'altro La rimino Allora Vediamo un attimo Qua che invece Siamo messi Un po' Un po' Più di cacca Eh qui Avrei un meno cinque Al cibo Però Mi interesserebbe Perché Darei più ricchezza Avrei più crescita E probabilmente Avrei anche la possibilità Di aumentare il morale Per cui Facciamolo Perché al momento Ho tanto cibo E comunque Avrei la possibilità Di aumentarlo ulteriormente Se avessi bisogno Allora ragazzi Passiamo il turno E ci vediamo Tra poco Allora ragazzi Guardate Come sono messi male Sono qui Che mi stanno Domandando Un trattato di pace E non mi offrono Un cazzo Ma almeno Mi dovresti Ricoprire d'oro No No Invece no Allora cosa facciamo Io direi Io direi Che non accetto Ma Perché voglio evitare Di fare altre bastardate Perché altrimenti Mi diventa veramente difficile Fare veramente Dei trattati Con le altre Con le altre regioni Per cui Con le altre popolazioni Per cui Ovviamente Per me Puoi andare A prendertela In quel Posto Vattela pure A prendere In quel posto Benissimo ragazzi Aspettiamo Che il turno Finisca Anzi No Scusatemi Guardate qui Ci sta di nuovo Provando Questo Ma Ma Madonna Ma quanti Cazzo sono Il problema È che sono Veramente Tosti Questi Sono Tostissimi Mi stanno Dando un Fastidio Vabbè Vedremo Che cosa Succede Nel prossimo Turno Vediamo Allora Dannazione Un'altra Nobile Fine Chi Cacchio È morto Sto Giro Porca Miseria Allora La legione Italica Molto Bene Perfetto Andiamo Bene Ovviamente Vogliamo La cavalleria Vediamo Un pochino Le caratteristiche Penso Che Porca Miseria Non è Che c'è Proprio Una Grandissima Scelta Tu Che Vuoi Alzare Un po' Il Morale Delle Unità Sei Meglio Che Un calcio Nel sedere Per cui Va bene Hanno scoperto Un nostro Agente Ma D'accordo Tentativo Di soppressione Allora Un agente nemico Ha fallito Per provocare Una rivolta Ok Agente Ristabilito Oh Burro Si è Ristabilito Fammelo Vedere Abbiamo capito Che è morto Il nostro Generale D'accordo Dove sei Burro Burro Ma Non era Qua Burro Mi pareva Che fosse Ah no Eccolo Qua Allora Il burro Vedete Che comunque È impossibile Alla gente Di entrare All'interno Della città A meno Che io Non lo Inserisca Proprio Nelle truppe Cioè Amministrazione Militare Ma Non è Non è All'interno Della città È all'interno Delle truppe Per cui Io credo Che vada Tenuto Soltanto Sulla regione Allora Vediamo Allora Facciamo Un tentativo Facciamo Un tentativo Mamma mia Questo qua È un signore Della guerra Veramente Con i Coglioni Quadrati Però Ne avete Anche Un altro Vediamo Se per caso Ma anche Questo Ma che Cazzo Di campioni Ci avete Voi Cioè Io ho Dei campioncini Forse In confronto Cioè Veramente Ho dei Pokemon Non ho Dei campioni Fammi vedere No Cazzo È cazzutissimo Anche il mio No Sì Sì Sei cazzuto Sei cazzuto Orco cane Però Ne ho solo Un paio Ma anche Lui ne avrà Solo un paio E tu Chi sei Cosa mi rappresenti Sei il signore Della guerra Di chi Di questi E che cazzo Ci fai nel mio Territorio Allora Te adesso Che sei aumentato Un pochino Di grado Sei di secondo Livello Ti vado A sfruttare In città Sabotaggio Militare Fornitura Fornitura Di veleno Visto che Hai un'altissima Probabilità Di farcela Perfetto Grado Grado aumentato Ottimo 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 Continuiamo così Gli stiamo Indebolendo Allora Comunque Perché io adesso Mi muovo E vengo A romperti I coglioni Ma proprio in maniera Serena Pacifica E tranquilla Vengo Con le mie macchinette Da guerra Con la mia cavalleria Con i miei lanci Oddio Mamma mia Che culo Che ti faccio Ma proprio Guarda Me la godo Tutta La nostra flotta Dove cacchio è Eccola qua Allora Voi Entrate Un pochino Vi voglio Magari In una posizione Un po' più Di difesa Di questa zona Qui Io direi Visto che Comunque Il nostro rischio È quello Dei cartaginesi Con la barra Spaziatrice Ma si muovono Un po' più Velocemente Vero si Ok Visto che devono Fare Dei movimenti Degli spostamenti Piuttosto Importanti Ok Qui siamo ancora Ok Stanno costruendo Stanno allargando La città Va benissimo Per il resto Io credo Che dovremmo Solo passare Ulteriormente Un altro turno Questa città Non abbiamo più Valutato Ma Fondamentalmente Ha tutto quello Che gli serve Per il momento Non può fare altro Che aspettare Qui non ci provo Nemmeno ragazzi C'è una probabilità Così bassa Ma così bassa Che un burro Non potrà mai Riuscirci Però Visto che Lì mi stanno Un po' Dando Un po' Di fastidio Diciamo Io ti Tarrei qua Anche tu sei di quarto livello Però dovresti avere i controcazzi pure tu Vabbè Stai lì E mi continui La latinizzazione Del territorio Nel frattanto Passiamo il turno Oh Vedete come cazzo Si stanno cagando addosso Adesso Guarda come si cagano addosso Guarda Guarda Non sono passati Sono passati due turni Mi hanno fatto due richieste Adesso mi offrono pure 1800 Di un po' Piango Perché avrei tanto voglia Di dirti di sì Avrei tanta voglia Di dirti di sì E poi Metterlo comunque In quel posto Ma penso Che non te lo metterò In quel posto Penso che verrò ad ararti Senza Senza Così Proprio Perché mi va D'accordo No no Sì ma Allora E' vero che le mie parole Sono cariche di tristezza Ma sono triste Perché ti devi tenere Quei 1800 Ma non ti preoccupare Che me li vengo a prendere io Non ti preoccupare Che adesso arrivo E me li vengo a prendere Allora Vedo che c'è stato Un sabotaggio militare I rifornimenti Del mio esercito Sono stati avvelenati Da una spia nemica Molti soldati Sono ammalati Alcuni sono morti Abbiamo trovato Degli agenti Porco cane Proprio il mio esercito Di punta Mi sembra giusto Guarda che roba Ma quanti Eh no eh Eh no eh Ci prova in tutti i modi Ferita L'abbiamo solo ferita Vabbè La mia tra l'altro E' stata ferita Ma dai Adesso vengo io lì Ma guarda te Ma guarda te Il 9% Il 9% Come cacchio fai Come fai Com'è possibile il 9% Cioè non ce la farò mai Ce l'ho fatta Con un 9% Come cazzo è possibile Ma cosa succede Questo gioco Com'è questo gioco Ma che proporzioni Ha questo gioco Fatemi capire Voglio giocare in borsa Con questo gioco Porco cane Vediamo se guadagno Un po' di soldi Cazzarola Il 9% È probabilità di riuscirci Ce l'ho fatta Vabbè Ragazzi So zitto Andata bene Va bene Ok A posto Allora Cosa cavolo facciamo qua Hanno abbandonato Praticamente la città Ragazzi Io è vero che ho degli uomini feriti Ho delle cose ferite Ma Vaffanculo Attachiamo Attachiamo Non stiamo qui a perdere tempo Non stiamo qui a A pettinare le bambole Oddio mio Cosa posso fare Cosa posso fare Allora la scala a pioli Mamma mia Allora Che cos'è la galleria Leggera Fatemi vedere Di che cosa si tratta Un turno ci impiego E qui abbiamo le scale a pioli Mamma mia Mamma mia Allora È la prima In realtà È la prima città Che io attacco Urco Anche loro hanno Degli scorpioni Hanno Uh cazzarola Che bello Che bello Proprio Va bene No D'accordo Allora Manteniamo per un attimo L'assedio Amici Finchè non sarà pronto Anche La galleria E vediamo come Caspita funziona Ok Voglio vedere Come funziona Questa benedetta galleria Passiamo il turno Perché altro Per il momento Mi sembra Che non possiamo fare Fa parte te Mamma mia Com'è che facciamo A pararci il culo Da questi Vabbè Passiamo il turno Amici È successa Una cosa Bellissima È successo Che Come si dice Un agente nemico Un loro campione Ha attaccato il mio esercito E si è ferito Da solo È stato ferito Molto gravemente Ottimo Ricerca completata Organizzazione Accorti Molto bene Grado aumentato Grado 5 Chi 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 Logoramento Allora Ok Abbiamo perso 152 uomini Il mio esercito Sta subendo grave perdite Per portare avanti Questo assedio Adesso Attacchiamo Immediatamente Allora Devo capire Però chi è che è passato Di grado Uh eccolo qua Benissimo Molto bene Generale che è passato Di grado Ah no Generale Il nostro campione Uh che figata Allora Qualcosa per allenare Non c'è Che aumenti la Raduna Agli schiavi Agli agenti nemici Più semplicemente Ma vada per questo Stai diventando Un figo Della Madonna Ok Adesso che abbiamo Deciso Abbiamo fatto Quella nuova scoperta Adesso possiamo Fare I nostri Arieti Suppongo che qui Non possano essere Cambiati gli astati Presuppongo Bisogna farlo In il nostro territorio Come è giusto che sia Allora Però Adesso Possiamo portare L'attacco E ragazzi Attacchiamo 1276 uomini Contro 99 Cioè Vabbè Ci piace vincere Facile Eccoci in battaglia Quindi Il meteo È asciutto Direi che potremmo Iniziare lo schieramento Ma Ma Scusatemi un secondo solo Un attimo Soltanto Allora Ma Ma che razza Come Come diavolo Ma Milano Non Non Milano Non è in una zona del genere Che razza di roba è questa Vabbè Allora Ma che razza di mura sono Poi soprattutto Fatemi capire Dove sono le mura Queste sono le mura Ah ok Se lo dite voi Ma Mi hanno posizionato Nel posto più sfigato Che si può Allora L'ingresso in realtà Sarebbe questo Vedo che ci sono diverse torri Oh Scusatemi che mi studi un pochino Anche i particolari Perché è la prima battaglia Che faccio con delle mura E la città E la città è abbastanza grande Da avere Tre Tre Esatto Tre centri Da dover conquistare Allora Io credo che comincerò Da qua Mettendo De mie balliste Balliste Scusatemi Allora Anche perché Quella è l'unica porta Ho visto che ho delle scale Ma chi è che ha le scale Scusatemi Ecco allora Scusatemi Come funziona il discorso Della galleria Fatemi vedere Allora No Che cazzo è sta roba Oddio Non lo saprò mai Abbandona macchina d'assedio Vabbè Il fatto è che Ce n'è un'altra di porta No Non ce n'è altre Allora Le scale Eventualmente Dove le vogliamo utilizzare Siccome comunque Mi sembra che sia ben Ben protetta In ogni caso Le muraglie Sono Protette da Da delle torri Mi sembra che siano comunque Ben distribuite Alla faccia delle scale Io non ho una riete Per sfondarlo Il portone Per cui tanto vale Che veramente La cavalleria Potevo infilarmela In quel posto A meno che Non vada Probabilmente Si può andare Fino al portone Ad aprirlo Allora Con le scale Noi attaccheremo qua Ma esattamente Non ho ben capito Come funziona Come funziona Questo discorso Dei Di Di questa benedetta Macchina Da sedio Ma comunque La proveremo Allora Iniziamo Forse Con Forse E dico forse Con le baliste Sarebbe possibile Provare a tirare giù Il portone Perché Perché negli episodi Scusatemi Nel rom Nel primo rom Era possibile Farlo Anche se Onestamente Un po' poco Realisticamente Perché ragazzi Devo essere onesto Non è Cioè le baliste Servivano Ad uccidere uomini Non a battere mura O altro Sparavano degli enormi Dardi Per cui La vedo abbastanza dura Che riuscissero A tirar giù Dei portoni Ma comunque Non importa Teniamo allora La cavalleria qua Il nostro generale Che non sei tu Lo mettiamo qui Con il suo buon Raggio d'azione Abbiamo preso tutti Sì Qua nel posto Stupido Non c'è più Nessuno Non c'è più Niente Allora Io vado A raggruppare Praticamente Scusatemi Ma i veliti Li voglio Un pochino Più distesi Anche se In realtà Dopo dovrai Dovrò raggrupparli Ma comunque Non creeremo Dei gruppi Visto che comunque Li dovrò Sparpagliare Un po' in giro E devo ancora capire Come usare Queste cose Comunque Iniziamo la battaglia E proviamo A vedere Come funzionano Accidenti Ho sbagliato Attaccatemi Con le benedette Mura Voi invece Iniziate A bombardare Qua No dentro La No dentro Cosa state Attaccando Dove state Attaccando Voglio vedere Questo portone Aperto Allora Vediamo qui Come funziona Sono delle cose Cosa cazzo Servono Qualcuno Me lo spieghi Per favore Probabilmente Servono Per avanzare Senza subire Perdite Perché in questo Modo Hai un tetto Sopra Non ti arrivano Frecce Fin tanto Che però Però ci deve Essere Come si può dire Una breccia Sul muro Perché altrimenti Inutile avanzare In che modo Danni 17 Ok le baliste Stanno facendo Qualche cosa Boom boom 24 Danni alla porta 12 Allora Vediamo Se mi fanno La visione Del proiettile No Nessuna visione Proiettile C'è il tasto Ne sono sicuro Ma non mi ricordo Assolutamente Quale sia Oh Si sono anche I I segni Dei colpi Questo ha fatto male Allora Vediamo qua Allora Tu Spostati un pochino Più in qua Tu vai di qua Voi Fate più centralmente C'è la guardiola Qua che sta Attaccando Con Qualche freccia Mi sta uccidendo Qualche uomo Ma in teoria Dovrei riuscire Lo stesso Sparpagliatevi Sparpagliatevi un pochino Di più Per favore Allora Allora Adesso Visto che stanno arrivando Voi vi avvicinate Dai qua Cosa c'è Cosa c'è Non ce la facciamo Possiamo salire Cosa dite Saliamo Oh Questi già stanno salendo Ottimo Non so se sia possibile Conquistare questa Questa torre Di arcieri Mi sembra che stia andando anche tutto un po' a scatti A dire il vero Se riuscissimo ad aprire I portoni Dai che ci siamo quasi Non è possibile fare nostra questa cazzo di cosa Le porte nemiche sono state distrutte Eccellente Eccellente Allora scusatemi Era un attimo preso Perché stavo anch'io cercando di capire come funziona qua Tutto l'ambaradan Adesso è arrivato il momento di Fare piazza pulita Cavalleria Cuneo Cuneo Abbiamo conquistato una torre E' ora di attaccare Stoppiamo le balliste Prima che facciano più danni Di quello che è Allora Ragazzi Potete mollare Potete mollare E venire ad attaccare magari Cosa state facendo qui fermi? La nostra cavalleria qui si sta grattando proprio il pisello Cioè potremmo farli avanzare Cioè potremmo farli avanzare Non so dico io Ma questi qui cosa stanno facendo? Ma questi qui cosa stanno facendo? Madonna mia ragazzi Entrate per l'amor di dio Entrate Entrate qui Ah è terminata così Va bene Perfetto Ok vinta Abbiamo perso un po' di uomini in più Rispetto a quel che pensavo Anche perché Devo Studiarmi bene Capire che cavolo servono queste macchine da sedi Esattamente Perché Non mi sembrano arieti Sembrano soltanto degli scudi tipo Comunque vabbè ragazzi È andata È andata Ho subito un bordello di perdite Gli ho uccisi quasi tutti Ma ne ho subite veramente tanti Gli assedi con le mura sono particolarmente pesanti Non capivo perché non attaccassero Alcune delle mie truppe proprio non attaccavano Stavano lì ferme Ne ho decimati veramente Cioè me ne hanno decimati davvero tanti Purtroppo Ma vedremo adesso di ristabilire un attimino la situazione Proprio qua a Milano Eccoci qua con un risultato purtroppo non del ma Cioè non proprio ottimo Perché comunque abbiamo perso un'unità di astati Per l'amor del cielo Nulla di estremamente grave Però avremmo potuto fare di meglio Allora occupiamo Milano Grado aumentato Questo ci fa piacere Ho Grado 3 anche il nostro esercito Ho aumentato di Ehm Ho aumentato di livello anche l'esercito Per cui L'esercito Gli possiamo dare una nuova abilità Che sarà Quei Allora Più 3% di danni causati a tutte le armi Delle unità da tiro Permette la costruzione di macchine da sedio Medie Più 4 tiri al minuto Per tutte le macchine da sedio Più 5% al morale Tutte le unità durante le imboscate Per le battaglie notturne Ehm Corpo a corpo Più 3% dei danni causati alle armi Corpo a corpo Più 3% dei danni causati alle armi Di tutte le unità da tiro Questo è ottimo per esempio Nei usurabili conquistatori Cos'è il morale Durante le battaglie Contro l'incursione degli eserciti Più 2 all'ordine pubblico Dei grandi personaggi Questo è per le barricate No no Quello delle armi A corpo a corpo Che fanno più male Ma anche le armi da tiro Direi assolutamente sì Il generale invece Anzi no cos'è Sì è il nostro generale Allora Più 1 all'autorità Più 1 all'astuzia Più 2 allo 0 Più 10% al bonus Carica per tutte le unità Solo all'esercito E questo è per la flotta No Per il discorso carica Mi piace Ok Ok ci sta Chi diavolo siete voi Ah ok Siete l'esercito lì in cima Me ne sbatto un pochino la ciolla Ma perché Vabbè Allora Questo edificio non è disponibile Per la tua fazione Potrebbero non darti tutti i benefici Ok Quindi c'è da convertirlo In una colonia romana Quindi questo c'è da Doverlo convertire O in un produttore di mattone O in un produttore di anfore Ottima Ottimo dilemma Ottimo dilemma Mamma mia Il morale è bassissimo Ma veramente è pessimo Eh dopo la guerra Diamoci dentro Per esempio Con una cosa di questo tipo Aumenta sì la pressione fiscale Ma non aumenta il Eh Il malcontento Allora Mattone o danfore Allora Più 10 la ricchezza Più 5 gli edifici Con attività agricole Che non abbiamo A patavium Abbiamo Ma Non qui Piuttosto direi Produttore di mattoni Eh no Ma ci sono anche Più 10% di ricchezza In tutto il commercio No mi va bene Mi va bene per questo Convertiamo Anche questo Perché questo Che cavolo di roba è Fucina del bronzo Sì figurati Ok Ok Convertiamo tutto Mi ci vorrà Una quantità di tempo Incredibile Ma almeno Ci siamo Aspettiamo anche Che come vediamo Si ripristino Si ripristino Piano piano Tutte le nostre Unità Incluse forse Anche quelle che Proprio abbiamo Ridotto proprio male Ok Ci siamo Abbiamo anche Nuovi edifici Nuove cose Che si possono fare Uh Sugoso Si sono sviluppati Dei terreni Quindi si possono Aumentare A Napoli E A Riminum Dei Un nuovo spazio Per fare una nuova Costruzione Anche se io Onestamente Adesso Aspetterei Un attimo Fatemi vedere Qua invece Eh no Ragazzi Qua serve Invece Qua serve Espandi la città Minchia Che cacchio Allora Campi di Marte Potremmo fare Un bel terreno Consacrato Aumentare un pochino Di più Il Il morale Di 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 Perché i Campi di Marte Qua non mi Interesserebbero Particolarmente Per cui Vada per il terreno Consacrato E i soldi Sono finiti Allora ragazzi Io spero Come sempre Che il gameplay Vi sia piaciuto Anzi Io adesso Ho detto Che cosa Mi potevano Sembrare Quelle macchine D'assedio Che abbiamo Visto Confermatevi Se per caso La mia Idea È quella Giusta O meno Cioè Praticamente Che sono Degli enormi Scudi Che permettono Alle unità Di avanzare Sotto il tiro Delle frecce E dei proiettili Nemici Senza subire Particolari danni Oppure se servono A qualcos'altro Fatemi sapere Come sempre Aspetto i vostri Commenti Vi ricordo sempre Se vi è piaciuto Il video Un pollicino In su E anche Di un bel Mi piace Alla pagina di Facebook Di Mr.Delleric Venite a farmi Compagnia E anzi A discutere Soprattutto di Questi giochi Vi posto Le novità E le anteprime Ovviamente Su Facebook Mi è più facile Rispetto A Youtube Quindi anche Nel periodo In cui riuscirò A postare i giochi A pubblicare I giochi Su Youtube Vi avverto Comunque in anticipo Di quando riuscirò A farlo Per cui insomma Avrete già Informazioni Riguardo a queste cose Vi saluto ragazzi A presto Ciao ciao A presto A presto A presto A presto Grazie a tutti.